La situazione non è tanto come la dici tu, non è come me la racconti tu, in tutte le tue spaccettature. Adesso ti faccio vedere la ricevuta finché appagno. No, aspetta, prima che tu mi faccia vedere la ricevuta, io ho visto anche altre cose e non me l'hanno fatta vedere loro, me l'hanno fatta vedere altre persone. E quindi noi, ti posso dire, non rimpiangiamo di avervi aiutato per queste due notti, ma non possiamo perché la vostra condizione, anche nei confronti dell'amministrazione, è molto particolare e molto tesa. E perché se ne è andata? Perché ha chiarito le cose con noi, perché io le ho fatte alcune domande particolari. Vi ha detto quello che è a modo suo? No, non ci ha detto le cose a modo suo. Noi abbiamo solo fatto una intervista a lei ed è stata molto gentile l'assessore, nel senso che non ha detto tutte le cose che poteva dire. Perché se diciamo tutte le cose, Maria, non va bene. Allora, e no, non va bene, perché tu ne hai fatte tante, ne hai fatte tante. E costretta da chi? Costretta da nessuno. Ti costringe qualcuno a mandare dei messaggi di un certo tipo? Ti costringe qualcuno? No, non mi costringe nessuno, però ti deve dire come si comporta, lei non manda i messaggi, però ti deve dire cosa fa. Tu sai cosa mi ha detto il proprio Dio Pasquale, non so se mi sente Pasquale, perché non sente tanto Pasquale, ma Pasquale ha avuto tanti complimenti dal suo ex proprietario di casa. Tanti, tanti complimenti. Cosa è successo da quando siete andati voi? Mi ha sempre pagato. Io ho visto la casa, ho visto, quando ve ne siete andati voi. Sì. E come stava la casa? Come stava la casa? Come stava? La dovevo aggiustare io? Aggiustare? Non c'entra ad aggiustare, le condizioni della casa, non le aggiusti. Le condizioni che non potevo neanche tenere il lavandino aperto, dalla chiave d'arresto delle caratteristiche. Non è, ma non è, io ho visto, ti sto parlando così e lo sto facendo con grande tranquillità, perché non mi fido, io non mi fido mai delle parole delle persone. E come dico, questo è anche il pretesto, quando scrivete queste famiglie sono quelle da aiutare, non quei drogati, non quelle altre persone là. Ma voi non conoscete tanto delle storie che raccontiamo e non possiamo farlo, non lo possiamo fare neanche in questo caso, perché non voglio riferire i tuoi fatti personali. Però siamo nelle condizioni, purtroppo, Maria, di non poter continuare a darti una mano. Quando tu hai parlato e hai mandato certi messaggi all'assessore, eri lucida? Certo. Eri lucida? Sì. Sei convinta che eri lucida? E te l'ha raccontata a modo suo. No, io ti dico, tu eri lucida. Te l'ha detto che l'altro ieri come mi ha vista se n'è andato, te l'ho detto che non lo scherzo messaggio. Ma sai perché se n'è andata l'assessore? Perché se n'è andata? Per i tuoi atteggiamenti. Per i miei atteggiamenti? Eh sì. E quello che fa lei, te l'ha detto? E cosa fa lei? Cosa ha fatto? Le foto che ti ho mandato del braccio, quello che mi combinarono, te l'hanno detto che mi hanno trascinata per terra. Cosa avevi nella borsa tu? Ah? Come andavi qui quando volevi parlare? Cosa avevi nella borsa? Eh? Cosa avevi nella borsa? Mi sono presentata qua perché mi mettevano il battarello, il cestino, perché rimanevo qui dentro che era impossibile. Io non posso entrare. E vabbè, e loro le mani addosso poi me le potevano mettere. Ma ti avranno preso per portarti fuori e ovviamente poi hai reato. E mi hanno fatto male al braccio dove sono andata a finire in ospedale. E tu sei libera di prendere tutte le decisioni che vuoi. Però ti prego, ti prego però, non ci coinvolgere. Ti ho mandato le foto del braccio, giusto? Sì. Le hai viste? Hai mandato le foto del braccio, è successo una volta. Quante volte sei andata qui al comune? Sei venuta al comune? Sei anni e mezzo. Ok, sei anni e mezzo. Però è strano che fino a quando papà era da solo a casa il proprietario ci parla benissimo di tuo padre. Ha un ricordo e una stima nei confronti di tuo padre. Ma c'entra che io sono andata a casa di mio padre? C'entra, perché da quel momento è cambiato. Non è che io facevo la residenza? Non è che a lui ho creato dei problemi? Come no? A chi lui? Al proprietario di casa. Al proprietario. La legittima proprietà privata è importante. E se io ti metto un affitto, una casa, voglio che le cose vengono fatte in un certo modo. No? Che dici? E io ho fatto residenza ai cappuccini, per non fare residenza con mio padre. Ma questo, non lo ripete questo fatto, perché questo è un fatto che non va bene questa cosa qua. Però mio padre io non lo posso lasciare da solo. Mio padre sono otto anni che vedovo, non sente. Ho capito. Se tu lo interroghi, ti dice tutto di sì, ma non ha capito niente di cosa gli hai detto. Ho capito. Però non è soltanto una persona che mi racconta certe cose, capito? Non è una persona da essere lasciato da solo. Io l'ho tenuto a casa mia quando è venuta a mancare mia madre. Ora, ti dico una cosa. L'aiuto è l'aiuto che io ti posso dare. Quindi in questo momento io ti posso dare questo aiuto, anche in virtù di quello che c'è stato finora. Di un rapporto molto teso. Molto, molto teso. Capito quello che ti voglio dire? Anche per il bene di tuo figlio. Il piccolo. Sì, che dicono che lo dovevano sbattere in comunità. Ma tu non la racconti tutta. Da quanto tempo non va a scuola tuo figlio? Perché ci sono dei problemi. Ma i problemi si risolvono. Allora ci sono pure testimonianze che può venire il professore che aveva. Maria. Tutto quanto. Io ho avuto problemi col bambino dall'elementare. L'ho portato trascinando e ne ho un sacco di testimoni. Io ero l'unica che entravo nella scuola. Perché un giorno è scappato da dentro e l'ha sfuggito proprio dalla vetrata. Allora ho parlato con la dirigente. Tu mi racconti sempre e solo le cose che ti fanno comodo. Io non voglio entrare nel merito. Allora se lei non facesse comodo non se n'era andata, stava qua. Ma infatti lei a me ha detto tutto, mi ha spiegato tutto. E perché se n'è andata? Per non mettere la faccia. Ti doveva dire le stesse cose che sentirei nell'intervista. Che motivo ha di accendere ancora la tensione che tu tiri sempre fuori ogni volta che sali lì. Cioè tu non vai lì per poter avere una risposta. Tu vai lì per avere la risposta che pretendi di dover avere. No, allora mi trattano male e reagisco male. Vai con le buone e non risolvi niente. Come dobbiamo fare? Tu sei sempre stata lucida. Sempre. Sempre. Allora Maria. La mattina non so se la mattina. Io non... Facci quando te io... No, 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 non è quello. Io vorrei solo che tu capissi che l'aiuto che ti si può dare non è quello che tu pretendi. Se ne è andata. Ma quando fu... Ma perché se ne è andata? No. Non dire solo la parte finale. Non sto parlando, mi riferisco all'alto ieri. Eh sì, non dire solo le parti finali delle storie. Tu dovresti raccontare anche quelle prima. Quelle prima. E se tu racconti... Se tu mandi dei messaggi in cui... Non sei lucida e dici certe cose... Comunque Maria. Io ho visto delle foto sconcertanti. Perché il proprietario non voleva fare niente. Non c'entra il proprietario. C'entrano le condizioni igienico-sanitarie della casa. Il proprietario che c'è... C'è un dono che ti ha detto la vomba in gudera. Allora non hai capito. Per aprire l'acqua... Sai cosa avrei fatto io? Se eri andata alla fondana a prendere il secchio dell'acqua, se proprio. Ma io in una casa così non avrei mai abitato. Non ce l'avrei mai fatto. I figli della corrente li hai visti? Ho visto tutto. Se vuoi bene a te stessa, a tuo padre e ai figli, di accettare intanto l'aiuto per te. Ok? E poi di accettare l'aiuto che oggi ti possono dare in una maniera e domani può diventare un'altra cosa. Però ti prego, perché questo è fondamentale. Il vostro caso è così complesso, è così ormai degenerato, che noi non possiamo intervenire. Non potremo fare quello di cui hai bisogno. Tu, tuo padre e i tuoi due figli, soprattutto il piccolo. Chi sostiene i miei figli e mio padre? Sono io, no? Che io e voi chissà io. E ho capito, ma li devi sostenere in un certo modo, Marie. Eh? Eh sì, eh sì. Perché? Chi li sostiene? Ma sostenere cosa intendi? Farli mangiare a pranzo e a cena? Cosa significa? No, dico tutto. Ora dove sono? Ora tuo figlio piccolo dov'è? A casa. E perché non sta a scuola tuo figlio piccolo? Perché non si può, si devono risolvere dei problemi. Da tre anni? Da tre anni, no? I problemi ci sono dalla scuola e da mangiare. No, dico, ma sono tre anni che non va a scuola, Marie. Sono tre anni, e perché? Fino alla Galileo Ferraris, chi lo poteva portare trascinando? Perché hai rifiutato l'educatrice che ti veniva a portare tuo figlio insieme a te a scuola la mattina? L'educatrice? Eh, perché. Me l'hanno mandato, due ragazzine erano. Perché hai rifiutato? Io non ho rifiutato niente. Maria, allora. C'era il maestro Alfonso? Maria, ti prego, non mi far entrare nel dettaglio, ti supplico, io purtroppo non posso darvi una mano. Non è una cosa per cui possiamo... Io non voglio entrare, perché vorrei che questa cosa rimanesse in questo modo, perché voi abbiate possibilità di trovare un'altra casa, possibilità, se il comune ha modo di sostenervi e di aiutarvi, non complichiamo ulteriormente questa cosa. Ti prego, è per il tuo bene. A me farebbe comodo portare alla lunga questa storia. Invece ti dico che purtroppo siamo costretti a interrompere qui lo slancio d'affetto e di aiuto che abbiamo aperto l'altro giorno. Sono costretto, perché la storia è degenerata al punto che io non posso più fare niente. Assessore Rigante, stiamo aspettando da una vita tanti altri assessori, sindaci, assistenti sociali, quindi apprezziamo oltremodo il suo invito a chiarire questa situazione, che comunque resta una situazione tensiva, perché va avanti da tanto tempo, perché i rapporti si sono incancreniti. Noi ci teniamo a chiarire quello che è accaduto, anche a tutela e a salvaguardia del lavoro enorme, prezioso, che svolgono le nostre assistenti sociali e in realtà tutta la ripartizione. È chiaro che la situazione è complicata. Io sono anche molto in difficoltà, perché noi abbiamo profondo rispetto della fragilità di questo nucleo familiare e a tutela di questo nucleo familiare non mi posso addentrare nel merito di tutte le misure che sono state messe in atto per cercare di aiutare la signora e la sua famiglia. Che spesso sono state rifiutate? Alcune sono state rifiutate, certo. In realtà questo è un nucleo familiare in carico ai servizi da molto tempo e anche per altre ragioni che vanno al di là dell'emergenza abitativa. Ricordo sempre che c'è un minore che deve essere assolutamente tutelato e salvaguardato nella sua privacy. Da giudizi, quelli che purtroppo poi si possono dare, specie sui social, in maniera frettolosa e superficiale. Ed è il motivo per cui noi, ne approfitto anche per dirlo a lei, avendo analizzato e sentito anche al di fuori dell'istituzione pubblica alcune testimonianze, alcuni racconti, decidiamo di fare un passo indietro perché è talmente complicata e delicata questa situazione che non possiamo in nessun modo provare a dare una mano oltre quello che abbiamo fatto, se non altro anche chiarificare con voi quello che sta succedendo. La signora è stata più volte qui al Comune, molte volte ha dato in escandescenza, ci è stato raccontato che è venuta anche con un livore particolare nel chiedere la situazione, ma voi vi siete sempre un po' mantenuti anche perché le istituzioni devono avere questo ruolo. Ora però pragmaticamente le chiedo, alla luce di questi chiarimenti, il Comune cosa intende fare? Il Comune attraverso la professionalità delle assistenti sociali troverà il modo di adottare i provvedimenti più opportuni. Immagino non soltanto ad opera del Comune di Bicelli, ma in questo caso interverranno un po' tutti gli enti che vengono coinvolti. Intervengano anche altri enti, anche perché il caso è talmente ormai pubblico che immagino intervengano anche altri enti. Ma in realtà, ripeto, rispetto a questo nucleo familiare c'è un lavoro di rete che si è fatto nel tempo. Anche le misure che sono state adottate per fronteggiare la situazione di emergenza abitativa e che sono misure e strumenti che ci vengono messe a disposizione dall'ambito tra Nibicelli, sapete che i servizi sociosanitari vengono resi sui territori in forma associata dai comuni, il nostro ambito è l'ambito tra Nibicelli. Abbiamo tanti strumenti, uno di questi è il pronto intervento sociale che non tutti hanno e che è un servizio prezioso, grazie al quale noi offriamo ospitalità ai nuclei familiari che vivono situazioni di emergenza abitativa, ma che purtroppo è un intervento limitato alla situazione d'emergenza. Non si può trasformare in un'ospitalità a lungo termine. Altrimenti non ci sarebbero le graduatorie delle case popolari e tutto l'altro a sé. Mi stai dando l'assi per parlare anche di questo. Un attimo solo, l'ultima domanda sul caso, siccome in tanti, noi purtroppo per fortuna siamo molto seguiti, in tanti so già la domanda che faranno, sì va bene, ma stanotte cosa succede perché noi ci stiamo tirando indietro? E l'avete ospitati voi stanotte, no? No, ma adesso sono fuori, sono due notti, l'altro ieri, ma adesso no. Vedremo se c'è disponibilità, ma ripeto, purtroppo temo che non sia più possibile prorogare l'intervento del pronto intervento sociale che è durato per oltre 45 giorni. Inoltre, ma qui... Avete ospitato in un BNB, in tre BNB. In tre BNB perché il periodo era particolare. Ma io non so se conoscete la meravigliosa Biceglie e come in estate ci sia quasi il doppio della popolazione, quindi quanto siate stati anche fortunati a trovare tre BNB. Abbiamo cercato di coniugare le disponibilità dei BNB che sono convenzionati con il Comune, considerato il fatto che si trattava di un periodo molto particolare, il periodo estivo, e certamente i BNB, siamo stati, è vero, addirittura fortunati a trovare delle disponibilità. Lei mi ha detto una cosa prima che mi ha molto colpito, dice io ho scelto questo assessorato quasi a voler sottolineare quanto ci tenesse a questa cosa. E lo vedo anche da un po' da ciò che la circonda attorno alla scrivania. Due cose. Una, ritorniamo sull'aspetto abitativo, che è forse una delle emergenze principali. È un'emergenza nella quale dobbiamo parlare a livello nazionale, perché impone delle riflessioni a livello nazionale. Purtroppo l'emergenza abitativa è un problema di responsabilità collettiva, perché nel momento in cui un proprietario di casa, giustamente perché le prerogative dei proprietari sono legittime, legittime. Nel momento in cui un proprietario di casa chiede garanzie e canoni di un importo tale, per cui se una persona fragile avesse quelle garanzie e la disponibilità economica di quei canoni, probabilmente andrebbe in banca a chiedere un mutuo. E non sarebbe fragile. E non sarebbe fragile. Ci sono prerogative da entrambe le parti che meritano di essere tutelate. Ci sono tanti strumenti. Noi abbiamo tante case comunali. Ne stiamo costruendo anche delle nuove. In totale, se non ricordo male, sono quasi una trentina di alloggi nuovi. Abbiamo una graduatoria per l'assegnazione degli alloggi. E poi ci tengo a precisare, le case vengono assegnate solo ed esclusivamente sulla base di una graduatoria che viene... Ci sarebbe il far west altrimenti. Non solo, non sarebbe soltanto il far west, ma andremmo... Intanto, se noi facessimo delle eccezioni alla graduatoria, intanto andremmo a ledere le altre famiglie in condizioni di fragilità, perché se si trovano nella graduatoria, chiaramente sono nuclei familiari fragili. Ma soprattutto daremmo, se non rispettassimo la graduatoria, noi daremmo il via all'arbitrio. E l'arbitrio può andare di pari passo con l'abuso del potere. Noi invece, proprio a tutela di tutti, stiamo cercando di rispettare con rigore le graduatorie che sono state formate sulla base di un avviso pubblico che peraltro risale alla precedente amministrazione. Noi quando siamo arrivati abbiamo soltanto portato a compimento le procedure di formazione della graduatoria. Quindi con criteri certi, criteri chiari, sin dall'inizio a quella graduatoria non possiamo dare il via alle eccezioni. L'invito solo che vi faccio, lo faccio a tutti, non è una cosa personale, è sempre quello di rivedere costantemente questi criteri, perché noi abbiamo visto persone cambiare la loro vita in maniera radicale e diciamolo, credo di poter parlare anche per lei, che l'acquisizione di questi criteri non dà diritto per tutta la vita ad avere una casa popolare. Assolutamente. La casa popolare è perché ci sono dei requisiti. I requisiti non soltanto devono essere posseduti al momento della domanda, vengono riverificati in sede di assegnazione, ma attenzione devono essere mantenuti per tutta la durata dell'assegnazione dell'alloggio e ci tengo anche qui a dire che gli alloggi vengono assegnati, non vengono trasferiti in proprietà agli assegnatari. Quindi, questa è un'altra cosa importante. Nel momento in cui l'alloggio non serve più, va restituito all'edito proprietario. Non si fa perché ci sono dei requisiti e c'è sempre il dovere di rispettare questi requisiti. Anche perché c'è sempre qualcuno in condizioni di bisogno che avrebbe diritto ad avere quell'alloggio. Stavo dicendo, abbiamo tanti altri strumenti, abbiamo proprio l'altro ieri approvato un bando che ci consente di dare una mano alle famiglie in condizioni di emergenza abitativa sono risorse totalmente comunali con le quali, fissando appunto in maniera chiara i criteri di accesso e quant'altro, noi cerchiamo di dare sollievo alle famiglie che sono in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione oppure che devono avviare un nuovo contratto di locazione e sono in difficoltà con il pagamento del deposito cauzionale. Questo anche alla luce del fatto, mi duele dirlo, ma purtroppo è così, il venir meno della misura nazionale e regionale del fitto casa sta aggramando ulteriormente la situazione abitativa. Proprio lo stiamo apprendendo da tante realtà. Ci tengo però a precisare che questa è una situazione che vale non soltanto per Bicelle, ma è diffusa su tutto il territorio nazionale. Ora, alla luce di tutto questo, il nostro interesse è tutelare, ribadisco, i soggetti fragili di questo nucleo familiare. Così come abbiamo fatto fino a ieri, continueremo a fare dando alla Signora tutto il supporto che possiamo e dobbiamo dare. Ovviamente però l'aiuto che possiamo e dobbiamo dare è quello che è nelle nostre disponibilità, non quello che la Signora vorrebbe ricevere. E soprattutto l'aiuto bisogna volerlo, perché molte volte, per molte situazioni, in Italia funziona così come Fuggione a Bicelle, certi aiuti possono essere ottenuti solo se si vogliono veramente ottenerli. Assessore, noi la ringraziamo. Grazie a voi per questa opportunità di chiedimento. Avete visto come le apparenze molte volte possono ingannare e dunque ricordate sempre che dietro le nostre scelte ci sono spesso delle storie, dei racconti, delle testimonianze e dei documenti che non solo non possiamo farvi vedere, ma non possiamo neanche condividere proprio per il bene delle famiglie che cerchiamo di aiutare. E dunque, per ora, e solo per ora, è quasi tutto.